Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono su Gran Turismo 2 e cominciamo a fare qualcosa di epico, però prima di tutto dobbiamo andare a fare le patenti giustamente, dobbiamo fare l'internazionale A pratica, grilla di partenza, Smoky Mountain ah, questa è sulla terra, sicuramente uff 49 piappie, uff, Ford Escort Rally Car mh, fantastica, allora, i tasti quali cazzo sono adesso? non ricordo più i tasti, ah sì, ok, ok, mi ricordo i tasti, ah, piano, piano, piano non mi stavo ricordando i tasti perché c'è stato un momento di, di, di dimenticanza così allora, mi sa che dovrò abbassare il volume della macchina perché forse non si sente non si sente il tutto, mamma mia che bella macchina finish, non sto capendo un cazzo ok, arrivo abbassato un po' troppo no, no, va bene così vedo gli sponsor, ha un nuovo record facciamo, ecco, oh, questa, questa, questa è difficile questa, 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 questa è difficile questo è, oddio la macchina migliore del gioco è questa, ragazzi se riuscirò a comprarmela un giorno, ma non credo, cazzo accelera, se riuscirò a comprarmela un giorno, vi farò vedere cosa cazzo serve sta gara allora, sta gara quest'auto, è pure sta gara allora, peccato che l'hanno rimossa nelle nuove versioni di Gran Turismo questa gara, questa pista perché mi piace tantissimo allora, mi sa che qua dovevo buttare il primo a mano no, no, cioè l'ho fatta a prendere il bronzo, dai ce la facciamo col bronzo esci nuovo record Peugeot 306 S16, vediamo che cosa è qua cosa debbo fa oh madonna ma questo è, perché non c'è scritto che era da gara minchia, quest'auto è proprio il top, quest'auto mi piace, anch'essa, mi piace anche questa allora, noi dovevamo noi, io, devo e cazzo non gira, mamma mia dovevo andare a modificare l'auto non ricordo più che cosa dovevo fare dall'ultimo video allora, vado a vedere un po' le gare fra poco e poi vado a vedere cosa devo fare veramente perché non mi ricordo più allora, quest'auto è bella, sì, però cazzo è lentissimo è lentissimo, ma non si può cioè 37 cazzo l'argento? what the fuck? come mai mi becco l'argento così? allora, qua facciamo 4, ne facciamo facciamo questa ah, questo è difficile questo è difficile, però è bella macchina bella, gara difficile oh mio dio allora qua prima di tutto non sto capendo dove cazzo devo andare con quest'auto allora, c'è la frenata di qua, sì però non ne mettono nemmeno la mappa per capire dove cazzo sto andando per notare da notare anche le marmitte di quest'auto dai, che ce l'ho fatta che culo ce l'ho fatta senza capire niente sì, nuovo record facciamo l'altro no, le ultime tre le faremo nella proz puntata nella proz puntata soppiamo un po' sulle briciole qui per terra gara andiamo a fare mugen accord allora questa che cazzo devo fare allora campionati USA 246 ye 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 dovremmo fare questa giusto giusto cazzo la mia auto quant'è andiamo a vedere quant'era la mia auto non c'è scritto un cazzo non mi fa vedere quant'era la mia auto di velocità di cavalli sarà che non ce la faccio nemmeno ragazzi non ce la farò non ce la farò muoviti ok bravo eh si vabbè tutti quanti con le auto modificate potenziate io invece lo tengo questo così solo così sanno vincere con l'auto giapponese tutti quanti con le auto americane le Ford allo Ford Dolce Ford vediamo quell'altra cosa questa qua che cazzo è buh Pontiac credo non lo so è una Ford Focus così giusto per metterla allora no questa gara la posso tranquillamente la tranquillamente fare posso tranquillamente farla tanto non c'è problema il problema sorge solo quando devo superare questo ma sbaglio sono tutte rosse ah no sanno anche le auto dura il problema sorge questa Ford Focus mi sta letteralmente sui coglioni non riesco a superarlo oddio ne sta un altro qua dietro con la Ford K mi sa che questa gara la perdo a cazzo proprio la perdo no no dobbiamo usare il metodo di buttarci addosso come ha fatto quello là che mi è venuto da dietro oh cammina non sento il volume della macchina per addrizzarla questo per addrizzare questo veicolo ce ne vuole oh perché ma comincio a laggare perché no no un po' troppo alzato eh devo sentire io devo sentire la mia macchina allora non sto guardando gli specchietti si li sto guardando questa curva sarà la qua frena buttiamoci addosso vai così oh l'ho fatta bene buttate me addosso ma l'ho fatta bene cazzo no no non cominciare a laggare per piacere solo perché ho aperto qualche cosa di troppo tipo mi stanno chiamando su skype sicuramente sicuramente no ti prego non ho spento skype oddio non posso non spegnere skype frenata eh si ho fatto la cazzata ma si dai tanto ormai vedo le bandierine le sottilette che mi stanno assistendo la gara e sono primo e sono primo ragazzi sono primo vedete sulla minimap c'è un serpentino dovete localizzare la minimap che sta in basso a sinistra siamo un serpente mi è sempre piaciuto oddio sento rumori sospetti sento rumori sospetti oh ok ok allora il giro record è eh il miglior giro è 1.48 è 166.86 km orari fantastico epico strepitoso ah mi re uh chi è so stronzo che è una ford una ford una ford una ford quella si una ford però non mi ricordo come cazzo si chiama puma sicuramente la ford puma eccola la si mi sono ricordato grande allora ho capito che queste auto sono un po' troppo veloci della media uh uh ok andiamo di qua ecco qua dobbiamo cercare di farcela 59.0 uffo vai frena grande curva da maestro vabbè è uscito fuori strada perché volevo vedere cosa succediva diciamo che è stata una sorta di scusa no frena gira posso chiedere perché tutte le gare hanno due giri cioè non ha senso oddio le gare finale ce ne hanno 5 di giri però queste qua due giri perché perché uh 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 no 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 accelera 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 Mamma mia 29 crediti 29.000 crediti Muoviti 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 a caricare Allora Qua c'ho bisogno di un'auto troppo potente Quindi possiamo andare a fare Campionati nazionali tedeschi 216 No non puoi dirmi che supera Andiamo a prendere un'auto più lenta Se no piangono 190 dai Diamo lì qualche potenziamento così Volevo un'auto tedesca Non favo niente dai Nissan Non era Nissan questa Era Honda Abituato ad andare a Nissan Allora Marmitta No 216 Quindi con questo siamo a posto Sì a voglia A voglia che stiamo a posto No potremmo anche prendere la centralina 214 Mamma mia Pennello proprio E ora possiamo fare le gare 216 Il limite Quindi Nazionali tedeschi Tedeschi Inizio a gara Trip forest Raceway Vai accelera Oh madonna Accelerazione Tutte con gli Audi Invece io Con la Honda Da Honda No che partenza di merda Ho sbagliato No vabbè dai Non è tanto Tanto merdosa Ho solo dato un po' troppo aria Al motore Ma niente No Ho sbagliato il tasto Qua dobbiamo girare così Uno pelastra Sta per avanti Che bella Tro coloratissima Guarda Sì ma ora ti devi levare davanti i coglioni Grazie Non ho mai capito Quando ero piccolo Vedete queste stradine qua gialle Bloccate dal giallo E quando ero piccolino Piccolino Diciamo L'anno scorso Facevo di un pazzo Per cercare di entrarci Perché pensavo fossero scorciatui E poi ho capito invece Sono strade messe così random Giusto per arredire la pista di merda Che È una pista di merda Effettivamente Sempre odiata Una delle più odiuse Insieme a Trial Mountain Questa qua poi Questa qua La odio Questa con la foresta attorno Non capisci un cazzo Quando ero piccolino Non capisco nemmeno niente Oh wow Wow Allora andiamo Qua dobbiamo andare di qua No 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 Ho sbagliato Se andava di qua Così mette Il freno Ok E così qua ci supereranno Vai Ai 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 Vediamo il miglior giro Ancora qua non l'ha segnato Il record è il miglior giro Allora qua dovrei buttare il freno E noi non l'ho buttato lo stesso Vaffa culo Ho frenato E sono pure uscito fuori strada C'è qua il quadro che non costa Bridgestone Tempo giro 1.40 384.11 km orari Mamma mia Frenata 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 Perché non accende le luci Cristo Non possono accendere le luci A quest'auto Cioè è buio È buio Ecco che passo sulla sterra Sulla sterra Nooo 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 Non devo perdere le gare E non accendono le luci però Che palle Qua c'è bisogno delle luci accise Le luci devono stare sempre accise di norma E di regola Così Fino a quando Il mio cervello sa Io so che Le luci In realtà devono rimanere sempre accise Pure di giorno Pure in pieno sole Boh io so è proprio così Poi non lo so Se hanno cambiato le regole adesso 1.15 Vai Lasciamo l'acceleratura Ah no 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 Non fare cazzate 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 Non fare Ti prego Ti prego Dai che ce la posso fare Dai che ce la posso fare Sì Prenditela in culo Prenditela in culo Ce l'ho fatta Oh madonna Io lo sapevo Quella è una curva di merda Quella è una curva di merda Che culo ragazzi Che culo Questi chiamano botte di culo Ma non è botte di culo È bravura nel cercare le botte di culo Ragazzi Dovete capire È professional Vai Dai Dai Fai Allora La liga inglese Manca una gara La liga tedesca Manca una gara Ah E mi attacco Al cazzo adesso Come farò Come farò Arriverò a 443 HP Devo trovare una macchina Che sia pesante Potente Allora questa Arriva a 333 Ah Con questa possiamo fare Che gara possiamo fare Vediamo Possiamo fare La Liga nazionale dei tedeschi No La liga inglese 330 No 394 Vediamo C'è un modo per modificarla ancora di più Allora Est della città Nissan Messa Messa a punto Ehm Non ci abbiamo più un cazzo da modificare Cioè Elaborazione Motori aspirati Niente Perché questo è un motore turbo 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 la minchia È vero Possiamo andare a modificarla col kit turbina Fase 3 40.000 Vaffanculo Cioè potrei farlo Però doveva arrivare a 40.000 crediti 40.000 crediti Dove ca Li vado a prendere adesso Intercooler 333 Ammirevole Possiamo andare a fare freni Il cazzo Possiamo andare a fare Motore Ehm E l'equilibratura del motore Ah ecco Qua possiamo 13 343 Smiraglia Smiragliatura delle rughe Ma adesso si dice Ehm Ehm Elaborazione a motore aspirati Nutri C'è quello da fare Aumento della cilindrata 338 Ah Allora Allora E qua liberatura del motore Vene 13.000 Smiragliatura Ma mi conviene Faccio liberatura del motore La putenzo Poi vado a fare Smiragliatura delle luci No la putenzo no Facciamo Elaborazione a motore aspirato No Cazzo Aumento della cilindrata 346 E vene 8.000 Invece così 348 vene 5.000 Cioè ne vale la pena No La pena Pena Ehm Aumento della cilindrata Ma si dai Non hai abbastanza soldi Oh mio dio Com'è Non ho abbastanza soldi Non potete dirmi questo Non potete dirmi Professionale Una via L'ho preso In pratica Io tento a far Tento a far la gara Vediamo Lega inglese 394 Tentar non nuoce Ma non in questo caso Vediamo fino a quando riesco Leguna siga resui Vediamo che auto di merda stanno I morti loro Vediamo delle putenze Delle macchine che costano milioni di euro Nella realtà Che sono introvabili Leggende Legendarie Io che sto così E vabbè Dai dai Si può fare Dai Un pochino Giusto per perdere il video Dai Giusto per mettere qualcosa in più al video Se no sarebbe finito subito Oh oh Aspetta Aspettate Che forse ce la faccio Forse Oh Dio Aspetta No 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 Non è Non è si è bloccato È proprio così Ho fatto la gran cazzata Ho fatto la gran cazzata Allora Allora Io c'ho 7000 Siccome l'auto Se ne vola Vola Ecco qua Messa a punto Altri Riduzione della massa 22000 Le morti loro Fase 2 ce l'ho già Professionale Sistema di controllo Allora Sistema di controllo Questi elementi Consentano di regolare Gli effetti del sistema Di controllo Dell'imbardata A meno A mano a mano Che il controllo Vienesse citato Si verifica Come momento Di svolta Nella vettura Durante l'accelerazione Il comportamento Della curva è migliore Occorre agire Con la dovuta Cotto Perché la regolazione Eccessiva Faciliterà Il ribaltamento Della vettura Cazzo Allora Stabilità Questo mi interesserebbe Però noi possiamo anche Compra Pezzo non disponibile Eh beh grazie al cazzo Questo mi interesserebbe Perché l'auto se ne vula Quindi Mi attacco al cazzo Cioè O mi prendo Pneomatici Da gara slick Super morbido Non posso prendere niente E ragazzi Ormai il video Lo possiamo buttare Perciò Possiamo fare Possiamo provare Dai Ho notato che l'auto Se ne va Quindi dovrei bisogno Di 50.000 Cioè ma io dove Li devo andare a prendere Tutti sti soldi Cioè ma veramente Ma ci rendiamo conto Tentiamo di nuovo Sempre se non escono auto Più veloci Questa volta Eh Tutti grigi Solo così sono vince Con le auto grigie Cioè auto leggendare Cioè che Boh Dai Temtar non nuoce Dai Uggia Nuoce Nuoce gravemente La salute Io provo Tanto la macchina Si ribalterà sicuramente Però Dai Ma Cioè di scappare Scappa Perché prima ero più veloce Di scappare Però guardate Cioè Scusate se taglio la strada Ma è l'unico muto per Non si può guidare È inguidabile Cioè prima era più facile Cioè almeno era più facile Passarli È inguidabile Voi non riuscireste mai A guidarla così Cioè guardate No 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 Mo sta riuscendo Perché aumenta la velocità Quando sta ancora in prima Seconda marcia L'auto non ce la fa L'auto Guardate 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 Devo buttare addosso agli altri Mi tocca buttarmi addosso Cosa che a me Non infastidisce Però infastidisce agli altri Perché poi mi dispiace Però Dai guarda Butto il freno La macchina se ne vula Cioè io mo Cioè Cioè io mo Come dovrei fare Come dovrei finire Questa carriera di gran turismo No 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 Frena Guarda 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 No No Frena No Oddio Guarda quello Guarda Che macello Che macello Che ho fatto Oddio Ok bravo 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 Andiamo fuori strada Tanto che faccio Le gomme da sterrato Ancora Buttiamoci Vai 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 Quello se ne vula Sì ragazzi Non mi piace Nemmeno a me giocare così Però Mi tocca Mi tocca perché Mi sa che A 443 cavalli Mi toccherà fare un campionato Prima Non ci riuscirò Perciò dovremmo prendere Puntate speciali Faremo Oh madonna Oh madonna Allora Qua stiamo facendo Cioè Non sto ancora Direndo per prima Quello là Come se ne sono volati Ancora dietro Sono rimasti No 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 Mi ha raggiunto Cazzo Mi ha raggiunto Quello vuole la vendetta Quello L'ho lasciato Allora Rifarcela Se tutto va bene Ce la posso fare Però Però Non si può camminare Con questo problema Cioè L'auto Non risponde Guarda Cioè Io cammino Freno Fai conto che l'auto Se ne vula Sono io che sto andando piano Infatti Voi potete notare Che io lascio l'acceleratore Freno Non freno su Cioè Freno dove non bisogna frenare Onde evitare Allora qua Qua è macello di nuovo Qua se succede di nuovo Il macello Frena 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 Fa niente che mi vengono addosso Fa niente Allora Questo qua è tornato Vuole la vendetta Eccolo là Guarda se ne fa Che pure quelle auto là Quelle grigie là Che vedete Non è che siano facili Da portare Anzi Sono più difficili Di questa qua In queste circostanze Allora Cioè Mi hanno dato questa gara Con queste auto qua Cioè Proprio Mi vogliono molto Tre minuti Allora Non posso nemmeno leggere Il giro record Ora Lo reggete voi Mi sta spingendo Bravissimo E tutti se ne vanno fuori Tutti se ne vanno fuori Allora Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non so come Non so quando Ma ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Allora Sì Sì Va bene Ragione Va bene Sì Cacchio Va bene Bene Ragazzi Ce l'ho fatta Ma ci rendiamo conto Sì Bonus Solite cazzate Solite cazzate Da quattro soldi Successivo Mamma mia E siamo già arrivati Alla fine della puntata Meno male Onde evitare altre stronzate Bene ragazzi Vi saluto Per questo video è tutto Ricordate di lasciare un'iscrizione Se vi è piaciuto il video E di scrivere un parere Ah c'è anche il campionato inglese Fuck E ciao a tutti ragazzi Ciao ciao ciao